caro amico dell'angolo gameplay ben ritrovato in questo pomeriggio ottombrino forse non lo sai forse non lo sai ma io streamo anche su twitch praticamente tutte le settimane due o tre volte a settimana perlomeno no? quindi ho deciso di cominciartelo a dire anche qui no? perché tutte le settimane cambia un po' l'orario perché la vita è dura se non ci si incula dico bene? e allora ecco l'orario di questa settimana ok lo puoi vedere qui in sovraimpressione questa settimana soprattutto ci sarà un evento speciale non so se lo faccio direttamente martedì o mercoledì però ciò non importa ciò nonostante non importa perché io ti aspetto nella sporta e per vedere una stream angolosa angoliana va bene ecco rapidamente martedì abbiamo rapia il 2 poi abbiamo skyrim questa settimana e anche gli uomini che cadono sui falli va bene quindi ti aspetto non mancare se devi sparare non mancare perché se manchi dopo quell'altro ti spari indietro se lui non manca allora dopo ti chiami pietro perché spara con una pistola a pietra quindi che ti colpisce diventi pietro no? se sei un uomo pietra se sei una donna brutto nome pietra brutto nome comunque ti aspetto angoliano ti aspetto sì grazie a tutti